Con la crisi e il caro combustibile in Italia sono tornate le stufe e si riaccendono i camini, facendo segnare un aumento record del 15% delle importazioni di legna nel 2013 rispetto all'anno scorso. Quest'anno, con l'arrivo dell'inverno, ci saranno oltre 6 milioni di stufe e camini accesi sul territorio nazionale, con l'importazione di ben 3,5 miliardi di chili di legna da ardere nel corso di tutto il 2013, che saranno bruciati per garantire il caldo nelle case degli italiani. L'Italia è diventato il primo importatore mondiale di legna da ardere. Un ritorno ad una modalità di riscaldamento che sembrava dimenticata, dovuto al crescente interesse verso una forma di energia che è diventata competitiva dal punto di vista economico, oltre ad essere più sostenibile dal punto di vista ambientale. Sul territorio nazionale sono presenti 10 milioni e 400 mila ettari di superficie forestale, in aumento del 20% negli ultimi 20 anni, di cui viene utilizzato meno del 15% della ricrescita annuale a fronte di un 65% ad esempio della Germania.